Webinar Audit in Italy sulla norma ISO 37001, sistema di gestione anticorruzione, di Stefano Bonetto, auditor anti-bribery. L'obiettivo di questo webinar è conoscere, con un approccio semplice ed operativo, il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione previsto dalla ISO 37001, adottata anche dall'Uni, e capire come implementare all'interno della propria organizzazione dei presidi per contrastare i fenomeni di corruzione e diffondere una cultura basata sull'integrità negli affari. Prima di analizzare nel dettaglio la norma, vediamo qual è il contesto nella quale si inserisce. Il fenomeno del contrasto alla corruzione è stato affrontato in molti paesi già da disposizioni legislative nazionali. Possiamo pensare ad esempio al Bribery Act nel Regno Unito, al Foreign Corrupt Practices Act negli Stati Uniti, al Decreto Legislativo 231 del 2001 e alla Legge 190 del 2012 in Italia. Vi sono presenti anche indicazioni specifico a livello europeo e dell'Ocse. A livello normativo, il primo standard ad interessarsi all'argomento anticorruzione è stato il British Standard BS 10500, che è stato sviluppato nel 2011. La norma ISO 37001, Anti-Bribery Management Systems, definisce requisiti per prevenire, individuare e rispondere in maniera efficace a possibili fenomeni di corruzione che si possono verificare all'interno di un'organizzazione. I requisiti della 37001 sono applicabili a qualunque organizzazione, indipendentemente da tipologia, dimensione e natura dell'attività. Bene, parliamo della norma ISO 37001. Che cos'è questa norma? Prima di tutto è una norma tecnica, ossia una norma che fissi i requisiti, i requisiti di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, ed è integrata da una linea guida applicativa. Linea guida applicativa che collega il requisito fissato dalla norma ad una indicazione, una buona pratica per una sua efficace applicazione. Abbiamo detto che è una norma che fissa i requisiti di un sistema gestionale. Che cos'è un sistema gestionale? Un sistema gestionale, dato un obiettivo principale, in questo caso la prevenzione della corruzione all'interno delle organizzazioni, si applica a tutte le organizzazioni, pubbliche, private, di ogni tipo e dimensione. L'importante è ovviamente che ci sia un rischio di corruzione. Quindi è un sistema di gestione che ha questo macro obiettivo. Un sistema di gestione è un insieme di procedure, regole interne, istruzioni, protocolli, controlli, che in qualche modo tengono sotto controllo i processi che possono generare il rischio, in questo caso il rischio di corruzione. È una norma strutturata secondo il cosiddetto modello high level structure, che è quella a griglia comune, quello che nel mondo normativo viene chiamato framework comune, nel quale tutte le norme in qualche modo si devono conformare. È un modello generale diviso in dieci punti e anche questa norma permette questo tipo di integrazione. Quindi è scritta per poter essere integrata con tutte le altre norme dei sistemi di gestione. Non ha riferimenti normativi, questo per noi che ci occupiamo di normazione è molto importante, perché vuol dire che è una norma autoportante, quindi può essere applicata senza nessun altro tipo di riferimento tecnico. Quindi ricordandoci che cos'è, è una norma emessa dall'ISO, l'ente internazionale di normazione, quindi una norma ad alto livello, in questo caso adottata anche dall'UNI, quindi nella sua indicazione viene chiamata UNISO 37001. È una norma di sistemi di gestione, quindi non si occupa direttamente di requisiti specifici, ma ti dà indicazioni sulle procedure che devi adottare una volta che hai fatto l'analisi dei tuoi processi e l'analisi del rischio e ha come macro obiettivo all'interno dell'organizzazione la prevenzione del reato di corruzione. Secondo aspetto, quello che mi interessa fare in particolare sono due premesse su questa UNISO 37001, quindi la norma sui sistemi di gestione e di prevenzione della corruzione. È una norma che ha un forte approccio anglosassone. Cosa significa questo? Significa che ha principalmente riferimenti normativi internazionali. Questo significa riferimenti Ocse, significa riferimenti Nazioni Unite, significa riferimenti dell'Unione Europea. Quindi principalmente è orientato al concetto di prevenzione della corruzione in senso lato e con un approccio internazionale. Sempre nell'ottica approccio delle norme anglosassoni abbiamo un secondo aspetto da mettere in evidenza, ossia che è da una forte autonomia al soggetto che decide di applicarla. Quindi concentra sull'analisi del rischio che chi vuole applicarla deve fare, quelle che sono le considerazioni senza dare regole su come l'analisi del rischio debba essere fatta, da forte autonomia al soggetto che decide di applicarla, su quali sono le aree di intervento, il perimetro e addirittura la stessa definizione di corruzione. L'ultimo aspetto per questo che io definisco approccio anglosassone o approccio internazionale alla normazione è che è una norma che ci dicono subito, attenzione, è parte integrante di quei cosiddetti compliance program, ossia programmi di conformità generali di qualsiasi organizzazione. Un'organizzazione per stare sul mercato e per gestire il rischio e anche per un approccio all'integrità deve comunque rispettare le leggi. Ecco, questa potrebbe essere vista come un sottoinsieme dell'insieme generale della compliance aziendale. Quindi compliance significa conformità principalmente alle leggi, poi a quelli che sono i documenti statutari e obbligatori che l'organizzazione si è data e ovviamente i contratti sottoscritti con i clienti o con i stakeholder in generale. L'ultima premessa che vorrei fare è quella, attenzione, per il momento è una norma che si applica esclusivamente al reato di corruzione. Quindi molti di quelli che sono i reati che danno la responsabilità penale di imprese, ricordiamoci il decreto legislativo 231 del 2001, sono assolutamente esclusi da questo tipo di norma. Lo standard internazionale 37001 parla di corruzione. Importante, c'è una nota che ci dice che puoi estenderlo, autonomia, nell'applicazione della norma, però, attenzione, devi gestire bene questa estensione agli altri reati. Terzo e ultimo aspetto sulla 37001, la ISO 37001, della quale vi vorrei parlare. Quelli che chiamiamo i punti rilevanti. Abbiamo detto che è una norma definita sulla base della High Level Structure, quindi questo framework, questa matrice, questa cornice fatta in 10 punti che prevede specifiche attività per tutti i sistemi di gestione. All'interno di alcuni requisiti troviamo delle personalizzazioni, delle esigenze specifiche. In questo caso ve ne ho individuate 10. La prima cosa è sicuramente che quando vuoi applicare questo standard, devi dare la tua definizione di che cosa intendi per Bribery, e quindi per corruzione, perché tutti i paesi hanno leggi diverse. Loro danno una definizione di tipo generale, ricordatevi l'approccio anglosassone, noi dobbiamo dare la nostra, ricordandoci che c'è una definizione che possiamo definire per legge, tipica quella del nostro codice penale, poi possiamo estenderla attraverso codici etici o procedure interne anche ad altre regole che si fissa autonomamente l'organizzazione stessa. Secondo aspetto di personalizzazione, devi definire bene, studiare bene, qual è il modello di governance della tua organizzazione. Questo è molto importante, divide fra quello che potrebbe essere l'organo più alto, poi collegandolo al top management e così via. Quindi questo è un aspetto estremamente tipico di questa norma e deve prevedere all'interno dell'analisi della governance anche la verifica delle deleghe. Poi prevede una specifica analisi del rischio, tutte le norme dei sistemi di gestione lo prevedono, ma aggiunge il requisito della due diligence, che è un'analisi del rischio aggiuntiva, laddove puoi considerare non basso il rischio di corruzione. e viene fatta su attività specifiche. La due diligence è mirata, per esempio, su determinati fornitori, determinati mercati, determinate transazioni e quindi è un requisito tipico di questo standard. In seguito, mi piace ricordare, la norma prevede una funzione compliance specifica per la prevenzione della corruzione. Questo è in linea con tutti i modelli internazionali della prevenzione della corruzione, dove abbiamo in qualche modo il cosiddetto responsabile della prevenzione della corruzione. Da in seguito dei requisiti specifici che altre norme sui sistemi gestionali non danno sull'assunzione del personale, quindi ci deve essere una procedura documentata, fatta in un certo modo e con determinate caratteristiche, qui le buone pratiche ci sono, quindi basta copiare quelle. Come requisito integrativo da studiare quando iniziate a pensare a questa norma ti parla anche di financial e non financial control, questo è importante, quindi pur essendo una riga sola quello sul financial control, va previsto una procedura di cui la forte integrazione fra quelli che sono i lavori per esempio dei collegi sindacali nelle varie organizzazioni e il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Quindi procedure su come, passatemi il termine, gira il denaro e le autorizzazioni alla spesa e così via, deve in qualche modo essere parte integrante nel nostro sistema di gestione. Un requisito specifico lo troviamo sul conflitto di interessi, quindi anche qui significa formazione, significa regole, significa esemplificazioni di che cosa va inteso per conflitto di interesse, ovviamente se questo aspetto è presente e applicabile in un'ottica di analisi del rischio. serve un requisito specifico e viene predisposto su quelli che sono i regali, gli omaggi e così via, sia dati sia ricevuti, questo è importante, quindi anche in questo caso una procedura, un regolamento interno, un'istruzione operativa per gestire questo tipo di aspetto, importante. La norma si applica come confini del sistema, questo è abbastanza importante, soprattutto quando si fa l'analisi del contesto, anche di soggetti che in qualche modo lavorano con noi e attraverso l'analisi del rischio si può analizzare che sono soggetti attivi nella commissione potenzialmente del reato di corruzione o di comportamenti non corretti sulla base della nostra definizione di corruzione. Quindi anche in questo caso è un requisito specifico, la gestione dei fornitori o soggetti, chiamiamoli business partner. Ultimo aspetto importante di questa norma che non trovate nelle altre norme dei sistemi gestionali è quella che dobbiamo gestire in modo puntuale la possibilità di segnalazione, il cosiddetto whistleblowing. Quindi ci deve essere una procedura documentata, ci devono essere delle procedure operative per ridurre il rischio che non sia gestito in modo anonimo. La procedura deve inserire anche gli aspetti di investigazione di questo tipo di segnalazione e ovviamente deve prevedere tutte quelle attività atta di impedire che il soggetto che ha segnalato in qualche modo sia danneggiato. Quindi tutte quelle attività e tutti quei processi interni aziendali per evitare questo aspetto. Queste in breve, quelle che sono le specificità di queste norme quindi quelle cose da prendere subito in considerazione qualora decidiate di applicarla e abbiate un po' di dimestichezza con i sistemi gestionali basati su standard ISO. Riassumendo quanto finora detto, la ISO 37001 è un valido supporto per le organizzazioni che devono adiempire agli obblighi legislativi previsti in materia di anticorruzione e che vogliono adottare un approccio operativo basato su regole chiare e condivise in grado di controllare concretamente nel tempo i rischi legati al fenomeno della corruzione. Vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato. Di seguito i nostri riferimenti. Odite in Italy, via Carlo Goldoni 1, Milano 0255 186649 Il nostro sito è www.verifiche.info